su e si riprende bene e può andare anche al compleanno del Luciano a luglio non ci andavo manco morto venite al mio compleanno l'ultima volta che faccio il compleanno è un casino qua e la carta è partito profirati, ci usati è un disastro dentro, fuori dal locale quindi ti ho fatto il compleanno e ti ho fatto casa tua e non ti vien qua a romper i...